Il lavoro che presenterò è un lavoro empirico che fa capo ad alcune considerazioni di carattere generale. Per esempio quelle principali di partenza potrebbero essere due. Cosa si intende quando si usa la parola rivoluzionario e di conseguenza la parola rivoluzione, cioè che cosa è, che cosa noi intendiamo quando usiamo questo termine che sembra ovvio ma forse non lo è del tutto. Il secondo punto che rimane sempre nello sfondo di queste nostre considerazioni è se per caso non sia finita l'epoca delle rivoluzioni. Ma dipende molto dalla domanda numero uno. Una volta che si definisca cosa intendiamo per possiamo anche chiederci se quel fenomeno che abbiamo tentato di definire continui a verificarsi o sia prevedibile o invece non appartenga ad un passato concluso. oltretutto se noi intendiamo con questo termine cadenze fondamentali della storia non dico umana ma perlomeno di interi continenti e prevederne la iterazione nel tempo diventa piuttosto un mazzardo o perlomeno esige qualche indizio che porti in tal senso. Sul punto uno, cosa si debba intendere per rivoluzione, mi piacerebbe fare una premessa un po' di carattere storico e domandarci per esempio da quando si comincia a parlare di rivoluzione e in che senso? Nel mondo greco e romano, insomma, quella ampia area cronologica e spaziale da cui discende la storia nostra successiva, attraverso molte mediazioni, ma comunque è quello un buon punto di inizio. La parola vuol dire tutt'altro, una parola latina, rivoluzio, che però significa tornare al punto di partenza, gli astri compiono una rivoluzio e quindi non è un termine che si possa storicamente collocare all'origine di ciò che noi intendiamo per rivoluzione. Invece la terminologia adoperata in entrambe direi le civiltà, che poi a un certo punto diventano un'unica civiltà che siamo soliti definire classiche, è tutt'altro ed è un termine che contiene in sé il concetto di novità. Per esempio nel greco antico, la cui vitalità arriva fino all'età bizantina e oltre, è ben inteso, il termine è neoterizein, che vuol dire introdurre delle innovazioni. In latino c'è l'analogo res novas moliri, desiderare, organizzare, tramare, preparare cose nuove, res novas. Infatti nella enciclica di Leone XIII, rerum novarum e l'inizio nelle prime due parole, sono un riferimento per l'appunto alla rivoluzione che egli considera un fatto molto preoccupante e comunque ingombrante, dal quale prende le mosse per un'enciclica famosissima contenente una parte non secondaria del pensiero sociale della Chiesa Cattolica. Però nelle lingue e nelle civiltà che chiamiamo classiche, quei due termini contengono entrambi una fortissima sfumatura negativa. Se di qualcuno si dice che lui neoterizei, è meglio stare in guardia. O peggio ancora nel mondo, per esempio, romano-repubblicano, ma anche dopo, se uno molitur res novas, è già sta commettendo o progettando un reato. Quindi c'è un elemento di negatività. Perché? Come spiegare, come comprendere questa connotazione? Direi che per una ragione inerente al pensiero politico, all'ordinamento della città antica, la quale si fonda sul principio che l'ordinamento vigente è quello avito, tradizionale, da difendere perché in esso si identifica la comunità. Chi lo vuole infrangere compie null'altro che un atto distruttivo della fonte stessa della comunità cittadina. Per esempio, nella civiltà politica ateniese sono neoterizontes, introducono novità, agiscono da rivoluzionari, diciamo così, coloro che vogliono abbattere il sistema democratico. Considerato per gli ateniesi, per il mondo attico, per tutto il mondo che ruota intorno all'Atene, originario, il fondatore della democrazia è Teseo, personaggio mitico. Ci sono tanti fondatori della democrazia nella tradizione ateniese, ogni tanto c'è qualcuno che passa per essere tale, anche Solone e quindi anche Clistene e quindi anche Efialte e Pericle, quindi a molti padri, diciamo così, questa che loro chiamavano Patrios Politeia, ordinamento patrio, caratteristico della città, della Patris. E dunque, se così è, coloro che contro questo ordinamento si pongono, vogliono abbattere l'eguaglianza dei cittadini, vogliono introdurre, infatti i rivoluzionari del mondo atenese sono gli oligarchi, o meglio, coloro che criticano i difetti più o meno evidenti, comunque molteplici, dell'ordinamento democratico non lo criticano apertamente, cercano di abbatterlo, nel momento più favorevole lo colpiscono e se del caso riescono ad avere il potere per qualche tempo, cosa che è successa appunto ad Atene almeno un paio di volte nel corso del tardo V secolo. A loro volta gli oligarchi hanno un'idea della Politeia e ritengono di essere loro i portatori della Patrios Politeia, quindi il concetto di Patrios Politeia, di costituzione a vita degli antenati è ambiguo, è tirato da entrambe le parti. Non a caso gli oligarchi quando prendono il potere in Atene nel 411 avanti Cristo, in un momento difficilissimo della guerra contro Sparta, propongono la revisione delle leggi, cioè vediamo le leggi di cui la città è piena per stabilire quali fossero quelle veramente patrie e se l'istituzione di principi e di pratiche di tipo democratico non sia una devianza dalla vera Patrios Politeia. Quindi è un concetto conteso, potremmo dire. E la situazione romana, la situazione del mondo romano, si pone, si prospetta in termini analoghi con una variante importante. Noi abbiamo esempi storici, ben noti, documentati, di esperimenti e di comportamenti che hanno avuto come proposito colpire l'ordinamento vigente. Nel caso della Repubblica Romana, della quale parleremo brevemente, forse non è inutile farlo, Tardo Repubblicana, si potrebbe ricordare due momenti importanti che passano per essere due rivoluzioni, una fallita e l'altra riuscita. Quella di Catilina è quella cesariana. In che modo Catilina tenta di resnovas moliri? Noi abbiamo una fonte importantissima ed eloquente, ricca di dettagli, che è l'opuscolo, la monografia, la breve monografia sanlustiana, e ci rendiamo conto di un fenomeno curioso. Cerco di essere breve e il più possibile chiaro. Sallustio scrive poco dopo, qualche anno dopo, l'uccisione di Cesare. È stato un cesariano fedele, convinto, tenace, assistito al fenomeno imprevisto del riaprissi delle guerre civili, il triunvirato, si ritira dalla politica e scrive. Si mette a scrivere storia, come nel mondo romano sono per lo più i senatori che scrivono storia e lasciano la politica, ma la storiografia è una continuazione della politica. E sceglie quell'argomento lì. De Catilina e coniurazione. Fa una premessa amplissima, comunque propone un nuovo modo di raccontare la storia. carptim, lui dice, cioè a pezzi. Non più la lunga narrazione comincia dalle origini e va avanti indefinitamente, fino alla vita stessa dell'autore, ma monograficamente. E sceglie per primo quell'argomento. E spiega perché. Perché fu la prima volta, lui dice, che fu commesso un crimine, sceleris novitate, per la novitas di quello scelus. E lo scelus era esattamente il tentativo catilinario di uccidere il console in carica, possibilmente tutti e due, e attuare una serie di provvedimenti aventi come epicentro la cancellazione dei debiti, grandi richieste ricorrente nel mondo della Roma repubblicana, attraverso provvedimenti straordinari. Come dire, abbattere le magistrature regolari, assumere un potere di tipo straordinario, attuare delle riforme contingenti, ma molto incisive, la più ingombrante delle quali è, per l'appunto, la cancellazione dei debiti. Ora, è curioso che lui scelga come primo tema questo. Le parole che ho prima ricordato, sceleris novitate, dovrebbero essere oggetto di riflessione. Grazie.